cari amici si è conclusa un'altra giornata insieme prima di salutarvi vi ricordo di non mancare domani alle 20 e 25 all'appuntamento con premiatissima 84 lo show ricco di musica di comicità e di ospiti simpaticissimi condotto da un cast eccezionale che non ha bisogno di presentazioni i miei più cari auguri vanno a flora che domani festeggia l'onomastico e a voi tutti suoni d'oro cinque sono le cose che conquistano il tuo cuore la simpatia le risate l'avventura al sentimento e l'amore formula speciale che trasforma il potere disore in un magico varietà e formula 5 la felicità è l'amico più sincero più simpatico che c'è amare cinque sempre con te amare cinque sempre con te amare cinque sempre con te